Anche oggi un consiglio regionale è ricco di provvedimenti legislativi utili per la regione Abruzzo e per gli abruzzesi. Abbiamo approvato tra le altre norme la legge contro lo spopolamento dei piccoli comuni montani. Questa proposta di legge è stata molto dibattuta nelle commissioni consigliarie, è stata molto dibattuta con le opposizioni, anche con i soggetti esterni, penso all'ufficio statistico regionale, all'Umcem, all'Anci, con l'assessore Liris che è la delega alle aree interne e siamo arrivati in qualche maniera a centrare due obiettivi. Il primo è quello di combattere contro lo spopolamento dei piccoli comuni montani che nella regione Abruzzo ammontano circa 166 comuni che senza questa legge probabilmente nel corso degli anni avrebbero perso ancora più valenza. E dall'altro abbiamo colto l'obiettivo di favorire tramite questa proposta di legge la nuove nascite e quindi la genitorialità. I dati Istat degli ultimi tempi sono abbastanza inquietanti e drammatici, non solo per l'Abruzzo ma per l'intera nazione e quindi abbiamo dovuto e voluto fortemente questa proposta di legge che mira a cambiare e a mutare anche l'aspetto culturale, l'approccio culturale per salvare, tentare di salvare questi piccoli comuni montani. Quindi è una giornata importante perché centriamo obiettivi importanti e che sicuramente vedranno i propri benefici nel corso dei prossimi anni.